Per far denaro ci sono più modi, potrei darmi alle frodi e fottermi i soldi dei morti come un banchiere a lodi C'è chi ha mollato i conservatori e premontecitori, o gli pianisti sono più pagati di ed in brodi Io vado avanti e mi si offusca la mente, sto per rimpazzire come dentro un call center Vivo nella camera 237, ma non farò la mia famiglia a fette perché sono un melò E' una seconda volta che non parlo di fette Sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe, perché combatto per la pensione, sono un eroe